Non confondiamo le cose. La Ventino evoca tra l'altro un periodo storico diverso dal nostro e quindi vedremo che cosa fare dal punto di vista della tecnica parlamentare. La manifestazione del 23 è una manifestazione democratica perché nessuno può sostenere che quando facciamo noi una manifestazione siamo al limite delle versioni. Quando la fa il PD o anche quando la fanno i grilli è il massimo della democrazia. Bisogna seguire sempre la stessa logica e lo stesso metro di giudizio.